Faccio il programma, salutamenti della Costituzione, gioco del zappo e altri figli attivitari e individui e mangiunti in quarte classi per l'organizzazione di sottotituzione. Attivare percorsi di sensibilizzazione e risposta, attraverso i conti, a quanti comunitari, percorsi culturali e sociali e attivitari per amore, coscienza civile per il gioco, a promuovere forne con l'articizzazione dell'unico programma di lavoro, coraggiando il protagonismo che trova l'unico e la vicina dell'esercizio e attivare per la campagna di proporzione rivolta alla cittadinanza, e l'uso degli strumenti, gli strumenti, gli sistemi, per chi non c'erano le società di persone. Grazie. Prego, 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 prego. Allora, prima, secondo, di venire. Buono. Grazie a te, per un giorno, per tutti i suoi dati. Vorrei dare il mio conto in buro a questa nozione affrontata da Giosicchietti, che la fai con la gente come tu vuoi. Allora, vorrei essere un ultimo video, in quanto vedremo anche dalla magistratura scorsa, e comincio a dire da quale è un urbino e un urbino. Innanzitutto, quando si parte la realtà, in un'attivata, chi ne parte, portando all'attivazione nazista, comunale, a tutti i suoi dati, dovrebbe avere, prima cosa, il pudore di guardarsi allo specchio, e risultate, se può, parlare di questo, come te. Fuori da ogni vera forma, mi bagno fortuna, ed anzi, c'è stato che, prima di affrontare questa bellissima questione, che ha in mano i reti della distanzione. Chi si è dal governo della città, dovrebbe pensare a un contello mio, e lì, quello di un'anima o un'anima, perché Dio mi sa, dovrei essere libero da un'unica, per affrontare la vita di un pubblico di un istitore, e questo presupposto mi bagno di te, in questa giunta, cittadina. E sappiamo che cosa, quindi, mi scorda di guardare. Se anche il mio pedologo non affronta questi momenti, se proprio da di voi non è di casa il concetto di realizzare. E perciò, la mia prima potenza, anzi, la mia mia proposta, è che se si vuole votare la donazione di un oggetto, faccia a me un passo pieno che ha molto più benigno di giustizia, e così potremo, arricchialmente e senza alcuna vera, in realtà. Ma veniamo a vedere la proposta di questo problema. A parere del soggetto, è necessario affrontare all'azione della gestione, delle forze e dell'ordine una forma che insegna un'unità del politico, a tutti i livelli, per riformare la cultura della gravità e trasfertezza dell'amministrazione. Poi mi portano i consigli a te non lo annunzio. Gli enti logali, pur non volendo rarmi una luce, possono effettuare in campo misure di un passo alle infiltrazioni della criminalità organizzata a sostegno a chi è vittima dell'amministrazione. Il fenomeno generale, mafioso, che in questi nostri comuni ne realizza lo sviluppo dal punto di vista sociale, economico-bontuale e imprenditoriale, che legano da un'esercitazione alla società, carina e generale società. Molti imprenditori decidono di non investire nel nostro territorio perché non si rendono curati dalle forze dell'ordine in primis e dalle istituzioni politiche. occorre sempre che i comuni diamo il segnale concreto e di imprenditorialmente nella lotta del contrasto all'ordine e all'organizzazione. in tutte le sue forze, ma anche i cittadini hanno perso l'identità per le sostituzioni locali, specialmente nella base. Dovranno amministrare, siedono e l'amministrano persone a poco potenti, visto di loro passare e di raggiungere la situazione. Si deve imprendere sì. L'amministrazione ha costruito i stati civili e i processi che rispondono le attività che è il nostro istante mafioso riguardante il proprio territorio. Ma bisogna stare attenti che i cittadini possano costruirsi anche loro a partecipare in conto delle vendite atti dell'amministrazione abuso del governo, commissioni del giudizio e peculato. E per noi non fermate a sottolineare altri giudiziari che porteranno le stesse aspetti decisi e pardonanti differenze, come a mio gruppo in tutti gli stessi. Facciamo la vostra cosa. Poi ritorno a noi e poi focalizzarò, con l'ordine del giorno presentato dal mio gruppo, dalla lista di familiari, primo femminario sottoscritto, dove che loro, le sottoposte a testa di droga, volontari, tutti i consigli e domani, e loro rispondivano. Sulla falsa regna il Stato, già fatte tutti i promessi, votando a loro amico. Questa è la mia, che ti auguro oggi, in questa posizione presentata di un signore. Grazie. Un augurio consigliere, proprio con cittadini, agli altri eseguiti. La mia, c'è un'altra cosa. Se non ci sono, è un'altra cosa. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 ... 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 così come cercorilare la partenza, mettere le giuste condizioni, i consiglieri monari, per esempio, di fare i propri interventi, senza ricamare sempre al terreno, e di fare gli interventi da parte dei consiglieri comunali, i loro passaggi, anche in sedi di consiglieri monari, anche se gli spessi sono stati sviscerati nel corso della conferenza di aiuto e delle commissioni. Io voglio ricordare che le commissioni consigliari sono aperte al pubblico. Le conferenze di aiuto, come amore delle conferenze di aiuto, sono in chiuso. Quindi i cittadini non hanno la possibilità di sapere cosa abbiamo, ma non abbiamo detto che se le conferenze di aiuto. Ed ecco perché alcuni punti, Sindaco, preferiamo anche e soprattutto in maniera rafforzativa svilupparli in sedi di un sede comunale. e parto da una sua amministrazione. Nell'amore del scorso consiglio monale, quando si stava discredendo di una differa riguardo ai 12, il sottoscritto aveva chiesto 10 minuti di sospensione per il rischio di avere la città presentata con i suoi consiglieri. Questo perché sicuramente il consiglio monale e i suoi concorrenti è la maniera che consenta le fanno a discutere queste modifiche. Lei, Sindaco, giustamente ha detto abbiamo preferito non accordare la sospensione perché sospendendo il lavoro avremmo fatto la maniera rafforzativa e non avremmo tenuto informare i cittadini di quello che era la discussione del corso. Quindi l'abbiamo fatta in maniera trasparente e aperta all'interno del Consiglio monale, affinché tutti possano essere partecipi di quanto andiamo a discutere. E credo, Presidente, che tra questo lo spirito della vostrazione del generale, così come è spirito del sottoscritto, fare il teorendico, così come è rivalito con le conferenze del gruppo, a meglio disciplinare lo strumento delle detenzioni e delle richieste fatte dai cittadini e dall'associazione delle forze politiche. Perché altrimenti, e lo sottolineavo, Presidente, durante il lavoro e la conferenza del gruppo, da un punto di vista formale, troviamo una sorta di disfaiità nel trattamento delle singole emozioni, dei singoli ordini del giorno, delle singole petizioni presentate dai cittadini. Quindi riferisco in particolare a due petizioni popolari presentate nella scorsa Consigliatura e delle quali chi mi sta parlando si è fatto fare. Uno su tutte, per esempio, l'installazione di materna delle foglioteche di terra all'interno di Parlo Giotto. Noi, all'epoca, la stessa consigliatura chiedemmo che il Consiglio Comunale distiesse di questo argomento, poi chiese tutta la posizione. Quell'argomento fu respinto dalla Presidenza sui suggerimenti della loro Secretaria Generale, perché mancavano alcuni, secondo l'orientamento del Presidente del Consiglio della loro Secretaria Generale, mancavano alcuni adeguati strumenti affinché quella elezione presentata da un gruppo di cittadini e poi sottoscritta da tre pubblicità delle posizioni che potesse essere discusse nel corso del Consiglio Comunale. Una su tutte, l'adminazione della loro Secretaria. e considerate che il Consiglio Comunale è stato bellissimo di cosa sta parlando e di cosa sto parlando. Nel momento in cui ci siamo provati, ti rivolgo grazie a me, nella stessa situazione per quanto riguarda l'aberizione presentata dal Comunale 25, per la ristrutturazione presentata dal Comunale 25, per la ristrutturazione presentata dal Comunale 25. Dovrebbe essere ben disciplinato, dovrebbe essere confidato, dovrebbe essere questo argomento presente di discussione della nuova Commissione Consigliare, che è quella di vita allo Stato dei Regolamenti. Per meglio disciplinare e per meglio normare tale tipo di richiesta da parte di chi consiede il Consiglio Comunale. Questo per evitare risparire altri trattamenti, fermo restando che l'argomento posto di discussione che ci va ovviamente proprio qui, e fermo restando anche un'altra preveste, che si gli argomenti non dovrebbero trovare nell'altra posizione di più sbarco della divisione, un'argomentazione che risuolta da parte di quello di contrasto alla illegalità e a fenomeni che possono diventare prima che deve essere un impegno da parte di tutti. Deve essere un impegno dell'organizzazione di luce, della giunta, deve essere un impegno dell'ultimo sistema. Io, con un piede, so che ce l'ho fatta da questi eropoli e da questi eropoli e da questi eropoli e del vecino, i quali, diciamo, forse alcuni nostri atteggiamenti non vanno nella direzione di quanto riguarda il suo decreto, e noi pensiamo che lo sentiamo a essere delusi. Se andiamo ad attuare una produzione del genere, dobbiamo essere noi, i primi a dare che sentiamo qualcosa. Noi i primi, organo politico, a non cercare di scavalorare i cittadini nelle loro problemi e a non lanciare corsie presenziali dei nostri segni. Allora, grazie. Grazie, grazie. Grazie, signor Presidente. Io vedo invitato, il Consiglio Popola, oggi, per il mio intervento del Cattore. E quindi, io, il Consiglio Romani, e nessuno pensato, a fare il certo e il consente, perché non lo vedo mai, a risposta del comitato che ha presentato una nuova sottolazione di un anno, lui ha cominciato a fare il pubblico e non lo vedo mai. Una cosa molto interessante. E viviamo con questa cosa. E viviamo con questa cosa. E poi, a seguire, un compagno di passaggio, con qualche cosa su questa. Quindi, il ritardo, perché, come diceva il Consiglio Romani, noi non dovreste, le dittorie, le dittorie, le dittorie, le dittorie, le dittorie, del povero, che non lo vedo mai. E' un aspetto, che portare a risultati, sotto l'aspetto di violenza, sotto l'aspetto di atti scorretti, e comportamenti molto soluzi. Bene. secondo me, secondo me, il momento... ... ... ... ... ... ... ... Siamo presentati a un gruppo, poi lei ti dice che il futuro è l'assessore, poi è quello che ti dice da voi. Quindi adesso dicendere voi che non lo facciamo a parlare, non lo facciamo a parlare, ma non lo facciamo a parlare, ma non lo facciamo a parlare. Però ci sono le piccole cose che non esistono in questo comune, in questo ente, in questa gestione. Le piccole regole. Partiamo da piccole regole, poi andiamo a parlare alle prossime cose che ho detto io. Oggi c'è una cosa che non è la mia, si prende l'agile di questa notizia e fa giunto un bel rapporto. Grazie. Grazie. Insuliamo la parola a tutti. Grazie. Sì, solo per questo primo aspetto e l'intervento del Consiglio, ovviamente per delle frasi che sono state già ristituite all'intervento, se il capogruppo come il dottore Lisi, che ringrazio anche il dottore Lisi, si è reso conto di come continuare questa delegitazione, continua anche dopo le elezioni, in qualche modo che per rispetto anche dell'elettorato ci ha consentito, che non consentiremo a nessuno. Poi se il Consigliere Coppola dice, andate a leggerli un risultato storico turistico, e se c'è qualcosa da fatto, fatelo. Deve essere, pertanto, responsabile. E devi dare i piedi di fuga se da conoscenza a lui, come fa, per un momento degli anni, di fare l'elettorato. Perché l'elettorato è delegitimare e lanciare le cose. E' un qualcosa che, per quanto mi riguarda il città, non siamo disposti al progetto. Quindi, o ci diamo il progetto di rispetto al reciproco, o che siamo in questo intervento costruttivo, si va anche verso la trasparenza, perché proprio il città non mi sta niente di casa. Mi sembra che dovrebbe essere così. Quindi, adesso, che si percorro, dimostri anche a lei un ammuntamento di comportamenti. Perché il passato non è stato un istantimo. E' finito. Adesso abbiamo iniziato una nuova era. E l'abbiamo iniziata, la terza, 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 la terza. Ci sono dei comportamenti di comportamenti importanti. Cerchiamo di poter rispetto a questi, ed evitare, di affermare, in un privato, in un politico amministrativo, che ha la terza. Grazie. Grazie. Prego. Allora, in assoluto, l'ambiente di rilevare in parola sociale. Vengo, e là c'è la consigliere che sono portata in sabato, alla dotterreste. Vengo dalla sforza di ci saluto. e mi rifacevo dalla sforza di ci saluto dal donato che ho detto che si amministrava, dove hanno amministrato, sieno che amministro. Poi, faccia vedere come sono, io non ho avuto nessuna, e sopra nessun problema. E' stato bene il Presidente del Consiglio, e poi sono venuti in rilevare in carriamandolo, che ricordavano il Consigliere del Consiglio. questo è il Presidente del Consiglio. ma io ti fanno ancora questo discorso, e continuo ancora a 3 euro. Comunque, le cose sono già scritte in carriamandolo. E non le dico solamente in un'altra. Non le dico solamente in un'altra. Le dico in un'altra. Esatto, le dico in un'altra. E' anche, è stato giocato. Ma te lo puoi. Lei ha detto... Sono giocato. Ma non è. Da quale gruppo viene aperto? Va bene? Ed era specificamente, specificamente, di volto, al gruppo che ha presentato, al solito presso il Consiglio del Consiglio del Consiglio. Siamo avanti. Siamo avanti. Allora, la nozione sull'iniziativa, il confesso alla notte, è stata presentata da Grasso, Basile, Medi, Zetta e Ossa. Questa mozione, o di tutte le altre mozioni, consiste in una richiesta scritta e motivata, tessa a promuovere una discussione approfondita e particolareggiata, inatrettica oppure amministrativa, su un argomento. Un argomento è in parte della competenza dell'amministrazione comunale. indipendentemente dal fatto che l'argomento vedessimo abbia già formato, o meno, o certo, di un'initimazione o di un'interpellanza di un'amministrazione precedente, ha lo scopo di sollecitare l'attività e libertà. Quindi noi abbiamo presentato questa nozione solo per questo scopo. La discussione approfondita e il dialogo in confronto costruttivo viene proposto da noi a questa assise consigliare. Però, in qualità liberale, per conto che sono state mosse le percuse a quali quali hanno presentato questa nozione, e parlo personalmente, e anche presentando tutti i consiglieri sul barco, noi non confermiamo le azioni da nessuno né di legalità, né di università, né di correttezza. Perché io ho detto qualquanto siamo veramente sì, in emangola, ma non abbiamo interesse alcuno nella storia di un stand. per cui la prego di mettere gli utili sulle linee, ma anche le cose sono utili da raggiungere questa amministrazione. Cioè lei ha parlato anche di test, anzi, o, cioè, ci sono cose che non ci parlano. Quindi è una cosa assurda. Cioè lei ha indicato tutti noi assurdo così a testa di roba benvenna, perché è una cosa che fanno con il Parlamento, per carità. Però se lei ha la presunzione di pensare che qualcuno non possa avere delle schiette che dà il bagno e magari dall'altra parte possa pensare che ci sia la sparenza che sta in verità, questo punto lo invito prima ad esaminare qualcosa che è dall'alto di là, che è tutto dall'alto di là. di l'altra parte. Perché siamo tutti, siamo tutti disponibili a fare una cosa del genere. Però, la prego, per non volerlo usare o lanciare perché sono tutti ragazzi, quindi siamo tutte persone, voglio dire, indipendenze, quindi non c'è nessuno che ha più. Se qualcuno, in passato, purtroppo, per una disgrazia, è stato rinvoto in qualche decisione che si è riuscito pulito perché la soluzione non dimostrare la polizia o che non le avevano scelte da sotto per non aver permesso il fatto. Quindi, non accettiamo nulla, c'è un cittadino da dare gli utili a te. Questo è quanto. Grazie. 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 Prego. Scusate. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 e poi... e... e a tutti. e a tutti. e a tutti.